Aumentano in Calabria il tasso di positività e i nuovi contagi da Covid, passati rispettivamente da 5,16% a 6,04% e da 107 a 136 i contagi. Compressivamente i calabresi contagiati sono 70.106. Le persone risultate positive al coronavirus sono 70.106, quindi più 136. I casi di oggi sono distribuiti 48 nella provincia di Reggio Calabria, 36 nella provincia di Cosenza, 33 in quella di Catanzaro, 10 nella provincia di Crotone, 6 da altra regione o stato estero e 3 nella provincia di Vibo Valencia. Ci sono inoltre 4 nuovi ricoverati in area medica, il totale quindi sale a 52, mentre diminuiscono da 5 a 4 i ricoverati nella terapia intensiva.